Oggi vorrei parlarvi del libro scritto da Michael Bibel, dal titolo L'ultima cosa bella sulla faccia della terra, edito da Adelphi. Michael Bibel è un giovane autore e libraio statunitense che nel 2020 ha scritto questo libro, giunto alla pubblicazione in Italia solo nel 2023. La trama è davvero particolare, ci troviamo in una località del sud dei Stati Uniti, Harmony, dove il giovane Iggy si reca in chiesa e accende un fiammifero, divampo un incendio e muoiono ben 25 persone. Questo gesto costerà ad Iggy la pena capitale. Il tempo che intercorre tra il ricovero nel penitenziario e l'esecuzione della pena è il momento in cui Iggy può cercare di dare un'interpretazione, una spiegazione del suo gesto e può cercare anche di dare una spiegazione a molti dei comportamenti assunti nel corso degli anni. In questo esercizio, se così possiamo dire, non può non ricordare anche i suoi due più cari amici, Chloe e Paul, che con lui hanno condiviso momenti molto forti, tra cui l'uso di sostanze stupefacenti e anche una sessualità promesqua. I giovani presenti in questo libro sperimentano quello che loro stessi definiscono la costante. La costante è uno stato d'animo che fa sì che ogni circostanza, ogni evento dell'esistenza sia in certo qual modo sballottato, per così dire, nella totale ambivalenza. Ambivalenza che è determinata dal tempo, che è il vero protagonista di questa storia, o meglio, da un elemento che compone il tempo, che è la transitorietà. Quindi è la transitorietà a determinare l'ambivalenza delle esperienze e delle vicissitudini dei giovani protagonisti. Il tempo, quindi, è, come dicevamo, il vero protagonista di questo libro. Infatti, in un'intervista dello stesso autore, c'è un'affermazione che, in un certo qual modo, spiega la sua attenzione per lo scorrere del tempo. Infatti, lui, a domanda sul tempo, appunto, ha risposto che il tempo ci cambia, ma ci lascia immutati. Ed è sulla base di questa affermazione che possiamo intuire l'interesse e anche la particolarità di questo bel libro, che consigliamo vivamente. E quindi, l'ultima cosa bella, sulla faccia della terra, edizioni Adelphi, autore Michael Wibble.